La struttura ha aperto questa mattina e vedete già la fila chilometrica, centinaia le macchine in attesa. Esercito in campo a Benevento nella battaglia contro il Covid e come nella prima fase della pandemia riapre il Pala Tedeschi. Con l'ausilio dei militari sarà un importantissimo centro tamponi. Stamattina ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in collegamento i sindaci dei principali centri sanniti. Il prefetto ha assicurato ospedali ormai pieni ma il sannio sta garantendo supporto a tutta la campagna. E' ospedale in sofferenza perché l'ospedale è pieno però in realtà la risposta è a livello regionale. Abbiamo circa il 60% di ricoverati che provengono da altre province e quindi il Benevento sta dando una mano a livello regionale. Con il Pala Tedeschi salgono a quattro i centri tamponi a Benevento. Sì, abbiamo ritenuto anche in collaborazione con l'esercito di aprire un quarto centro a Benevento. Ne abbiamo già a San Marco, a Sant'Agata e oggi apriamo il secondo a Benevento dato il grosso numero di tamponi che stiamo facendo in questo periodo. Ma intanto prosegue la campagna vaccinale con una distribuzione ramificata su tutto il territorio provinciale. Sì, è sempre stata la strategia dell'Ase di Benevento. Continuiamo a lavorare in tutte le sedi e in tutti i comuni. Facciamo open day, cerchiamo comunque sempre di andare avanti con le prenotazioni. La caserma Pepicelli, l'ex scuola degli allievi carabinieri di Benevento, come ogni giorno una fila senza soluzione di continuità. Qui ogni giorno si effettuano mille vaccinazioni.